Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La priorità assoluta per Paolo Belli è la sua famiglia, sopra ogni altra cosa, persino le sue passioni come la musica e il teatro. Di fronte alla scoperta della grave malattia di sua moglie Diana, ha preso la decisione di sospendere il suo tour teatrale e annullare tutte le date in programma. Con grande dispiacere, ha comunicato tramite il settimanale di Più TV che la sua famiglia ha bisogno di lui più che mai e che la sua presenza accanto a Diana è ora la sua unica priorità. La coppia, ancora innamoratissima dopo più di 40 anni insieme, affronta questa difficile prova con grande forza e unità. Accanto a Paolo e Diana c'è il loro figlio adottivo Vladik, insieme alla sua famiglia, che sono parte integrante del sostegno e dell'affetto che circonda la coppia. Paolo descrive Diana come una parte essenziale di se stesso, dicendo che senza di lei non riuscirebbe a stare in piedi. La forza del loro legame è evidente nelle parole e nelle azioni di Paolo, che dimostra quanto sia importante per lui essere al fianco della sua amata moglie in questo momento difficile.